Per me ogni cittadino italiano è innocente fino a prova contraria, a Bari, a Torino, a Genova e ovunque, e quindi non commento, mi spiace, però io stesso sono a processo e rischio la galera, non per questioni economiche, perché ho bloccato gli sbarchi, però non mi basta un'iniziativa di un giudice per sentenziare che qualcuno a Bari o qualcuno a Genova è una persona per male, e quindi conto che si faccia chiarezza il prima possibile, però si è innocente in un paese normale fino a prova contraria, e questo vale per tutti, è per i politici, i giornalisti, gli infermieri, i poliziotti, pensiamo a quello che è successo al Beccaria, alle gravissime accuse che riguardano donne e uomini della penitenziaria di violenza nei confronti di ragazzi, però l'agogna che ha riguardato tutti, ad esempio uno di questi presunti molestatori non era neanche in servizio nel giorno in cui sarebbero avvenute le moleste, quindi prima di condannare qualcuno, prima di giudicare qualcuno, aspettiamo che sia fatta chiarezza.